...con i primi, vediamo un po', adesso c'è un po', vediamo, qualche minuto, vediamo un po', vai, vai, vai. Alla prossima. Il numero 40, no, no, il tuo è 124, questo è il numero 40, il numero 6, il numero 6, il 6 è 124, il numero 29, il numero 100, la questione, la questione, il numero 30, il numero 59, il numero 5, il numero 49, Grazie a tutti.